Opie, opie in dialetto piano, è un comune abruzzese della provincia dell'Aquila, i cui abitanti sono detti opiani e il cui patrono è San Vincenzo Ferreri. Posto su un'altura a schiena di cavallo, lambito dalle rocce con le sue case in pietra, il borgo cerca di sopravvivere ai terremoti che con continuità minacciano il disfarlo. Un disegno di Enscher, il visionario artista olandese, ce lo mostra in groppa alla sua collina come nave arenata in inverno in un mare di ghiaccio. Opie è un luogo totalmente modellato sul territorio, in equilibrio instabile, come un lungo e bianco gregge di pecore su un dirupo. L'aspro carattere marsicano contrasta con l'origine probabilmente fiabesca del nome, opes in latino significa abbondanza, ma l'unica che qui si sia mai vista era quella degli armenti, delle pecore e dei pastori. Oggi quel pugno di case dell'impervio paesaggio abruzzese può comporre la sua nuova sinfonia pastorale guardandosi intorno e vedendosi diverso in ogni stagione. Carrarecce nevate, torrenti che fluiscono nelle valli, policromie di fiori allo scioglimento delle nevi, vecchi tratturi percorsi da giovani viandanti, boschi secolari, dove allo sguardo dei briganti si è sostituito quello fuggitivo del camoscio. Opi ha forse trovato la sua Ope. L'ipotesi più suggestiva è che derivi appunto da Ope, antichissima divinità sabina, poi assimilata dai romani con il culto di Saturno alla dea dell'abbondanza. Mentre la più probabile è che il nome venga dal latino opidum, castello fortificato. Il ritrovamento di una necropoli in Van Fondillo si testimone l'insediamento sannita tra il 700 e il 600 a.C. Poi nel 300 a.C. durante le guerre tra i Marsi, alleati di Roma, e i Sanniti, si ipotizza che un primo abitato sia sorto intorno al tempio della dea Ope. Nel 1188 una bolla papale di Clemente III menziona le chiese di Santa Maria Assunta, ancora esistente, e di Sant'Elia. E nell'alto medioevo la popolazione era insediata in località Molino di Opi, che poi dovette abbandonare per una posizione più difendibile sulla cima del costone roccioso. Nel 1284, quando morì senza eredi Berardo II di Sangro, signore di Opi, il feudo passò nelle mani della sorella Margherita, che sposò Cristoforo d'Aquino, inaugurando il possesso del paese da parte di D'Aquino, che continuerà fino al 1400, trasferendosi poi ad altri signori. Poi, finito il dominio dei Davalos, Opi passò sotto il controllo di altre potenti famiglie, finché il feudo non si estinse nel 1806 con la legge napoleonica sull'eversione della feudalità. Nel 1456 un violento terremoto devastò gran parte dell'Abruzzo, e quindi anche il borgo di Opi. Nel 1591 fu molto fiorente l'attività della pastorizia. Un ricco argentario di Opi porta sul tavoliere delle Puglie ben 4.316 pecore. Nel 1654 un altro terremoto distrusse la chiesa parrocchiale, ricostruita due anni più tardi. Nel 1809 il territorio fu infestato da bande di briganti, tanto che i contadini rinunciarono addirittura a raccogliere il fieno. Nel 1816 fu decretata l'unione amministrativa tra Opi e Pescasseroli, tornando ad essere comune autonomo poi nel 1854. Nel 1861 i cittadini, favorevoli ai Borboni, si rifiutarono di riconoscere il tricolore italiano e continuarono gli scontri tra i bersaglieri e le bande di briganti. Nel 1915 si abbatté su Opi e la Marsica un altro disastroso terremoto e la replica del 1984 lessionò l'antico campanile.